nuova stagione di ballando con le stelle nuove trattative per milly carlucci che sembra pronta a tutto per avere barbara d'urso e melissa satta nel cast ecco le anticipazioni milly carlucci sta già lavorando alla nuova edizione di ballando con le stelle lo show danzante di rai 1 che torna con un cast tutto nuovo la presentatrice vuole a tutti i costi barbara d'urso francesco arca e melissa satta ecco le ultime indiscrezioni ballando con le stelle anticipazioni sul cast mentre si sta per concludere il nuovo programma di milly carlucci ovvero la chiappa talenti la presentatrice pensa già alla nuova stagione di ballando con le stelle dopo il successo di quella appena conclusa che ha incoronato vincitrice vanda nara mesi fa si parlava della presenza certa di belen rodriguez tanto che la showgirl argentina si è mostrata spesso e volentieri su instagram intenta a prendere lezioni di ballo ma davide maggio ha poi fatto sapere che belen ci ha ripensato decidendo di non firmare ad un passo dall'accordo con la rai anche nina mori c'è in forse mentre jasmine carrisi ha ammesso di voler partecipare a tutti i costi e non vi sono motivi per cui milly non dovrebbe voler accontentare la figlia minore di albano ma spuntano anche nuovi nomi stando al settimanale nuovo tv che è certo che carlucci voglia nel cast di ballando con le stelle anche barbara d'urso melissa satta e francesco arca sulla d'urso ci sono diverse congetture tuttavia dato che c'è chi crede che la presentatrice approderà su 9 con un nuovo favoloso contratto vero è che anche la presentatrice si sta mostrando sui social sempre più alle prese con lezioni di danza tra danza classica e passi a due che potrebbero favorirla nel programma della carlucci insomma il totonomi è appena iniziato e nella lista appare anche federica nargi favolosa ex velina di striscia la notizia amatissima dal pubblico mentre certa è la non presenza di ex concorrenti dei reality show per volontà della conduttrice